La procura di Treviso ha aperto un fascicolo, due gli indagati con l'ipotesi di reato di truffa e circonvenzione di incapace. Si tratta dell'ex console onorario dell'Ucraina Marco Tosone e la sua assistente Larissa Vassilieva. A far scattare le indagini la denuncia presentata ai carabinieri di Treviso da parte della parente di uno dei feriti, secondo quanto sarebbe emerso in forza di un ruolo che non aveva più quello di console, avrebbe chiesto ad alcuni feriti di firmare delle deleghe in bianco per la gestione dei risarcimenti a beneficio di un legale di sua fiducia di Padova. Non solo, ma ad entrare nelle stanze dei ricoverati della strage di Mestre sarebbe stata la sua assistente, li avrebbe convinti quando erano allettati, semisedati ed intontiti dai farmaci. Ad innescare le prime perplessità dei familiari giunti in ospedale la scoperta che Tosone non aveva più l'incarico per il quale si era presentato. Nei racconti dei familiari Tosone, imprenditore e presidente dell'associazione Hop Ucraine, si sarebbe reso disponibile, appena caduta la tragedia, a trovare degli alloggi individuati da lui ai familiari e a mettere a disposizione la sua assistente come traduttrice. Ora saranno gli inquirenti a dover far luce su una vicenda già terribile e piena di dolore. Tutto questo in una tragedia ha costato la vita 21 persone e 18 feriti. Intanto Tosone respinge le accuse.